bentornati oggi ci occupiamo di fotografia di prodotto come potete vedere nonostante gli accorgimenti che possiamo prendere è molto facile che esaminando gli scatti a monitor ci rendiamo conto che le nostre fotografie sono piene di polvere o di piccoli frammenti in questo caso il modo migliore di andare a rimuovere questi difetti è creare un nuovo livello e servirsi dello strumento pennello correttivo andando a campionare da una zona pulita e andando poi a pitturare sopra quelle che sono i difetti vedete che in questo caso il nostro livello 1 contiene tutte le modifiche che vanno a migliorare e a rimuovere questi frammenti io vado a campionare da una zona che abbia le stesse caratteristiche di colore e di texture della parte incriminata dopodiché vado a pennellarci sopra e rimuovo le impurità che cosa succede nel caso in cui ci sia della polvere incastrata in una zona con contrasti diversi come in questo caso beh qui la cosa migliore che possiamo fare è duplicare il nostro livello e andare a selezionare disturbo polvere graffi andiamo a prendere il punto incriminato e partiamo da zero partiamo da zero e aumentiamo il raggio fino a quando vediamo che la polvere è completamente sparita a questo punto proviamo ad aumentare un po la soglia in modo da recuperare qualche dettaglio e ci fermiamo prima di cominciare a vedere di nuovo la polvere a questo punto come potete vedere la nostra immagine è un po troppo effettata da questo nostro intervento per cui quello che facciamo è aprire una maschera che invertiamo dopodiché prendiamo un pennello bianco e pitturiamo sulla maschera soltanto in corrispondenza del danno adesso io lo sto facendo male è giusto per dimostrazione se prendiamo un pennello della dimensione giusta facciamo un click all'inizio andiamo alla fine tenendo premuto shift facciamo un altro click e vedete che in un attimo rimuoviamo tutta la polvere e qui possiamo vedere il prima e il dopo buon lavoro